buonasera a tutti eccoci arrivati con l'appuntamento di trading classico del lunedì è l'ultimo giorno prima della fine dell'anno quest'anno e niente volevo con voi intanto chiedervi come come va se tutto ok chiedervi un po come è andata la settimana scorsa ci faremo gli auguri di fine anno perché ovviamente questa è l'ultima trading room appunto pre natalizia comunque in linea di massima direi che stiamo stiamo tranquilli intanto poi volevo anche sapere se mi sentivate correttamente se tutto è ok datemi un feedback vediamo un po vedo già davide che ha già scritto anche andrea tutto ok fernando perfetto molto bene very good c'è arduino dice anche alessandro daniele angelo anche ok alex gine anche lui carlo un saluto roberto ciao un saluto anche eugenio guido comunque dai per essere il 23 di dicembre qualcuno c'è come avete letto dalla pagina dove potete collegarvi ovviamente dalla pagina ig abbiamo appunto scritto che saremo live nuovamente esclusivamente il 13 gennaio quindi adesso faremo una pausa dalla trading room e vabbè adesso vediamo un po che intanto arrivino un pochino un po tutti saluto intanto giuseppe guido mauro che mi fa i complimenti per la professionalità grazie per quello che fai mi dice io ti ringrazio per essere qui ma ora dopo vediamo anche ubi e un altro eugenio ettore grande ettore che mi ringrazia per il tempo che dedica il materiale gratuito che si trova sul canale mi fa molto piacere buonasera federico bene molto bene va bene allora che dire da datemi dei mercati che li guardiamo allora intanto partirei dal primo messaggio di davide capucci capucci anzi scusa davide che dice una cosa dice buonasera buon quasi fine anno io solitamente a questo punto pianifico infatti prima domanda visto che siamo verso la fine su cosa dare maggiore attenzione risultati obiettivi altro nulla beh diciamo che questo non è in realtà lo spot dove parlare di questo però in linea di massima sì io solitamente pianifico risistemo il piano di trading fai conto che è così vi faccio conoscere anche questa cosa nel sito di arforex.com se andate su analisi c'è il servizio platinum un pacchetto platinum è proprio qui noi ogni giorno ci si trova ci si continua a tenere aggiornati e proprio in questi giorni stileremo come facciamo ogni anno il piano di trading un pochino aggiornato vedremo il file excel vedremo il diario aggiornato insomma facciamo un po di questo tipo di amministrazione quindi niente se volete anche seguire diciamo un pochino più approfonditamente quelle che sono tutte le metodologie l'approccio e quello che si fa ogni giorno potete prendere questo come pacchetto formativo per qualche mese sicuramente non rimarrete delusi e sarà di vostro supporto di vostro aiuto comunque venendo a noi la risposta davide si diciamo che se ho delle operazioni in piedi le mantengo in piedi e cerco di gestirle al meglio e in linea di massima non apro nuove posizioni solitamente almeno fino ai primi di gennaio anche dopo la befana dipende un pochino e do focus a questo quindi a rivisitare un pochino quello che è il piano di trading che deve essere molto scheletrico e molto molto semplice diretto diciamo che rivedo un pochino il diario e tutte queste cose qua che poi lo faccio sempre in compagnia con tutti gli abbonati al servizio platino tra l'altro va bene detto questo poi passo ad andrea bortolotti che mi chiede buonasera arduino in questo periodo di festività come gestisci le tue operazioni aperte le chiudi prima di natale per evitare dei gap no 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 assolutamente diciamo che poi io operando tendenzialmente anzi esclusivamente su grafico daily i miei stop spesso sono stop abbastanza ampi non sono stop troppo stretti quindi su mercati tra l'altro che gap ne fanno poco perché io opero e vi faccio vedere su una non grande vastità di mercati che sono principalmente questi qui che vedi su questa watch list e sono praticamente mercati che difficilmente fanno dei grossi gap sull'azionario quindi cosa significa sull'azionario indici quindi dax e s&p 500 in primis ho messo anche l'italiano visto che comunque siamo italiani quindi qualcosina si fa anche lì su in questo periodo dell'anno non apro assolutamente posizioni in realtà non lo faccio neanche nel forex però se ne ho per esempio oro e euro dollaro sono in posizione o comunque la mia la mia situazione abbastanza ampia come stop e soprattutto sono mercati che difficilmente fanno grossi gap perché sono molto 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 scambiati quindi la volatilità è quella che è per esempio anche un posizionamento sull'euro dollaro in questo caso vedi è già a prezzo di carico e quindi come puoi vedere insomma siamo molto lontani dallo stop quindi se ci sono dei gap ma a meno che appunto non stiamo parlando di situazioni dove c'è la bce o comunque riunioni appunto euro gruppi o cose di questo tipo durante fine settimana ma non è questo il periodo dell'anno direi che lo stop sono gli stop sono talmente abbastanza ampi che mi permettono di stare veramente super tranquillo e sereno ok spero di averti risposto andrea poi 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 andiamo a vedere andiamo in ordine allora mauro che mi faceva i complimenti prima e lo ringrazio nuovamente mi dice sto monitorando ubi banca italia one week quindi su time frame settimanale se assestato sopra la ex resistenza 2 euro e 90 la prossima resistenza è la 3 15 è meglio attendere che la superi mentre l'on con target 3 75 beh allora mauro mauro intanto dipende sempre dalla tua operatività dal tuo metodo da tante cose prima di parlare di entry ovviamente perché poi anche il target anche lì ha una sua no ha una sua valenza allora che dire siamo su un livello mi sembra vediamo il settimanale eccolo qua sì il settimanale è chiaramente su un livello chiave su questo livello chiave al momento ha formato delle barre abbastanza di spike soprattutto al rialzo in realtà ne ha formato uno anche al ribasso quindi c'è una sorta di indecisione sul titolo ubi banca come puoi vedere e quindi questo direi che per quanto riguarda una possibile entrata sicuramente l'idea che possa il titolo ubi ritornare sopra i tre potrebbe essere un'idea quindi per esempio mi viene da dire chiusura settimanale al di sopra dei tre euro ecco che potrebbe essere interessante per cercare nuovi spunti long poi sul daily questa è l'operatività che tenderei a fare su questo cambio perché su questo titolo perché adesso comunque stiamo di fronte anche a delle barre un pochino di esaurimento che non è che proprio siano il massimo per farsi dei long anche di breakout meglio attendere un vero breakout quindi una chiusura al di sopra di questo di questo livello dell'area 3 che definisco tonda e definisco importante guarda qui cos'era successo in passato e successivamente quindi se fa un bel candelabro bianco di chiusura sopra nelle giornate successive anche settimane fintanto che ci sta sopra tre si può andare a cercare degli spunti long di conferma long sul grafico daily per appunto mettersi lunghi questa è la mia idea mauro e credo che possa essere diciamo assolutamente interessante anzi grazie per questo spunto perché in effetti il titolo merita però merita in questo modo a mio avviso per essere più tranquilli e sicuri nel momento in cui si fa si trova un'opportunità va bene poi 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 aspettate perché mi è partito il mouse eccolo qui ettore dice ah ok grazie per il tempo che ci dedichi per tutto il materiale che si trova sul tuo canale ti ringrazio nuovamente ettore federico che salutiamo eugenio diceva euro franco so che non è nella nostra watch list di riferimento ma a livello didattico si potrebbe cercare un long già da queste aree dollaro franco che ne pensi va bene allora andiamo a vedere un long già da queste aree su euro franco ma io direi che vediamo un po ma allora guarda ti direi che anzi ti dico che in questo caso l'area principale è questa no 108 40 108 20 108 e 5 però in realtà come tu avrai visto eugenio c'è stata questa pin bar con falsa rottura del minimo all'8 ottobre che ha buttato sui prezzi e quindi ha confermato il livello molto importante di acquisto quindi in questo caso specifico in effetti questa inside fake out pin bar è un segnale di trading che sfalsa i minimi precedenti come puoi vedere e potrebbe riportare su non voglio dire più di tanto però potrebbe riportare sui prezzi quindi si ci può stare perché qui c'è stato questo sfalso del minimo fai attenzione perché il weekly non è bellissimo ok arriva da una barra molto short e potrebbe anche buttare giù poi al di là del fatto che il periodo dell'anno non è dei migliori ecco io tendenzialmente io non la faccio questa te lo dico però a livello didattico può essere interessante perché ha fatto questo minimo ha fatto l'insight fake out quindi cosa bisognerebbe fare a livello di tecnico si dovrebbe attendere il breakout dei massimi a 1.09 domani quindi aspettare domani e poi valutare una rottura dei massimi dell'insight fake out per magari prendere i primi livelli che possono essere queste zone qua questa zona qua 1.09 40 1.09 60 quest'area qui potrebbe essere la prima area dove il mercato potrebbe andare ad appoggiare ok quindi si ci sta può essere un buon da valutare buono eugenio va bene poi andiamo avanti intanto americo orsi americo non so dove l'accento va messo dice contribuiamo con un mi piace oh ti ringrazio ti ringrazio americo per questo per questa cosa che hai scritto grazie giusto contribuiamo con un mi piace non è sbagliato eh e non è neanche scontato quindi ridirlo a volte non è sbagliato grazie americo mario dice vediamo juventus voglio godere un po' mamma mia mario in che senso allora andiamo a vedere juventus questo mi sa che è un tifoso di qualche squadra o della juve o non lo so allora ah mario sei un tifoso di qualche squadra domanda eh io sono a a a a calcistico sono anche a politico sono a tutto quindi vai tranquillo che con me possiamo guardare tutto quello che vuoi allora settimanale allora non lo so cosa hai visto tu mario su juventus sinceramente io vedo un appoggio sul livello 1.20 1.27 nessuna price action particolare poi so che arriviamo adesso non ho seguito il titolo in maniera profonda anche da un punto di vista così fondamentale ma se non sbaglio arriviamo da un aumento di capitale seppur piccolo però da un aumento di capitale quindi non so se lo sapete ma quando ci sono gli aumenti di capitale è normale che il titolo perda valore per poi essere riacquistato più basso quindi in linea di massima il lo sfogo ribassista che c'è stato su titolo juventus per il per la questione del del aumento di capitale che credo che sia già stato fatto datemi un feedback vediamo se perché non ho seguito ripeto da vicino il questo queste vicende però ecco diciamo che questa tenuta di questo livello non mi dispiace quindi in linea di massima si potrebbe pensare di cercare degli spunti long se tiene l'area in chiusura settimanale questa zona qua teniamola tutta quest'area qua comunque questa è un'area che comunque sicuramente è un'area long almeno al momento fin tanto che ci rimane sopra quindi direi che su queste aree è meglio ricercare un long ecco di base è questo ok non ci sono ancora segnali però di base io qui sinceramente non voglio dire che deve invertire ma almeno ritornare a chiudere il gap e andare verso quindi 1.37 4 1.40 diciamo che è una cosa abbastanza fattibile saluto anche Claudio che è arrivato poi Norris Canossi dice ciao Arduino volevo sapere se con i certificati turbo 24 o con le barrier si pagano swap o commissioni giornaliere tenendo la posizione per giorni o mesi beh mesi però cioè non è da tutti tenere posizioni mesi allora guarda con i certificati turbo non si paga rollover notturno non c'è nessun tipo di rolling c'è solamente la modifica della knockout della barriera knockout che si modifica e quindi diciamo che il costo overnight va a influenzare il movimento della knockout ti invito a provarli così magari riesci un attimo a vedere meglio mentre per quanto riguarda le barrier si paga uguale al cfd o vieni pagato quindi con i g tu ben sai che per esempio sul forex noi per esempio quest'anno sul platinum abbiamo fatto le nostre operazioni ho fatto esattamente 78 7,8 operazioni di trading condivise un pochino col gruppo e quest'anno sono a 30 qualcosa euro di profitto di rollover cioè avendo la consapevolezza di quello che diciamo si va a fare quindi sapendo che il forex sul differenziale dei tassi può pagare e i g giustamente lo fa questo quest'anno chiudo l'anno con un piccolo per carità 30 erotti euro non sono tanto non sono niente però non ho pagato rollover anzi il rollover mi ha pagato qualcosina quindi se si studiano le posizioni si sa quel che si fa addirittura da il rollover dal swap si possono anche incassare dei piccolissimi profitti che possono però andare a come dire a tamponare magari dei costi di commissioni di spread eccetera eccetera per esempio quando io lo dico sempre ai miei ma lo dico anche qui a voi parlo di lavorare principalmente sui mercati principali eccetera perché perché sono più liquidi quindi più liquidità significa avere meno spread quindi meno costi per esempio vi dico sempre quest'anno guardando sempre da quello che ho fatto ho pagato costi per 200 e qualcosa euro 210 mi sembra 220 non ricordo comunque poco più di 200 euro di commissioni quindi provate a pensare non è molto in un anno spendere 200 euro di commissioni perché perché ho un'operatività molto pianificata non faccio mille operazioni provate a pensare se invece di farne 78 in un anno ne facevo 78 in un mese quindi bisogna avere sempre molto ben presente quello che si fa perché i costi ci sono e bisogna nell'operatività se si vuole guadagnare nel tempo essere molto come dire conoscitori di quello che è lo strumento conoscitori di quello che è il mercato conoscitori di come si strutturano anche appunto l'overnight tutte queste dinamiche commissionali che possono anche essere spesso a favore per esempio nel forex in alcune coppie sono ormai da anni a favore quindi sapendo le varie cose bisogna sempre averle molto chiare e farle nostre sapete che il costo commissionale è il costo che ha IG in questo caso che ci permette tra l'altro di fare queste trading room che è il mio broker anche e ogni broker ovviamente vive di commissioni quindi è ovvio che dobbiamo pagare queste commissioni per andare a mercato però gestire i nostri costi visto che noi siamo degli imprenditori del trading dobbiamo cercare di capire quanto si spende perché io questi 200 euro sono comunque dei soldi che io ovviamente ho speso per fare le mie operazioni per riuscire a guadagnare dobbiamo però gestirli e tenerli monitorati quindi ve lo dico e ve lo come dire ve lo vi consiglio sempre di seguire bene il tutto di farvi un diario noi lo mettiamo a disposizione per tutti gli utenti che fanno parte del platino c'è un'area riservata dove inseriamo tanti documenti che possono essere scaricati da chiunque faccia parte del platino e tra questi c'è il diario di trading e il sales calculator che ha creato il nostro amico Antonio Izzi che tra l'altro ho visto che è entrato qui in 3D room e che saluto e che ci aiutano a capire quanto spendiamo cosa facciamo e quindi avere veramente tutto molto chiaro va bene ragazzi quindi grazie a il nostro Norris che mi ha chiesto questa cosa e quindi ho preso lo spunto per dirvi questo poi saluto Alessandro dice Fabrizio invece fracci ciao Arduino come vedi neozelando dollaro buone feste a tutti intanto buone feste ma ce le facciamo più tardi così alla fine ci salutiamo tutti allora neozelandese il kiwi allora il kiwi eccolo qua ha fatto una doppia ftv il giorno 11 dicembre poi il giorno 18 dicembre ma era su un'area molto particolare che poteva riportare i prezzi sull'area di domanda 0.65 al momento sta ripartendo quindi quest'area che vedete rossa standoci sopra è un'area verde diciamo il settimanale vedete messo così sinceramente con un settimanale così bianco preferisco sempre un recupero prima di magari rientrare sul mercato quindi adesso sto un attimo a vedere ma diciamo che l'andamento è molto long potremo sicuramente avere delle possibilità delle opportunità magari nelle settimane prossime e potrebbe essere che neozelandese va a ritornare anche nell'area 0.67 0.6770 dove c'è stato questa pattern ribassista doppia barra che potrebbe ancora riportare i prezzi in vendita quindi 0.67 in obiettivo però al momento non ho segnali particolari e quindi devo attendere degli input bene Federico dice euro yen allora euro yen anche questo non lo trado moltissimo non è la voce principale ma lo andiamo a vedere eccolo qui euro yen è adesso in questo momento in una situazione abbastanza long come potete vedere minimi e massimi crescenti ci sono stati ritracciamenti chiari la barra della settimana precedente è una barra inside ha sfogato sotto i minimi della settimana scorsa l'ha fatto probabilmente già oggi eccolo qui vediamo perché l'area vedete l'area verde è un'area long sicuramente ripeto in questi giorni non aprirò nuove operazioni come ho detto prima perché comunque potete ben capire che queste giornate insomma ripeto ho delle operazioni in atto ma non ne apro di nuove però ecco da qui diciamo rivedere una fase long dell'euro yen diciamo che potrebbe essere e per concludere su euro yen direi che fin tanto che rimaniamo sopra i 119.60 nel senso che i segnali che potrebbero arrivare chiari su uno di questi supporti direi che è più da comprare che da vendere perché comunque l'andamento è meglio seguirlo ed è abbastanza long seppur vedete che è una coppia che ha una volatilità un po' più ampia del per esempio dell'euro dollaro assolutamente sì è anche un moltiplicatore tra dollaro yen euro dollaro però vedete che quindi i ritracciamenti che fa spesso sono più intensi di un mini ritracciamento quindi potrebbe essere anche che abbia voglia qui di fare magari un po' di lateralità come ha fatto qui magari fare un breve spike verso il basso e poi magari recuperare quindi seguiamo solo i migliori segnali quelli che hanno un certo spike anche perché questa coppia che è un cross ripeto non è una coppia pulitissima bisogna vederli bene i segnali bisogna avere ben chiaro quello che è il tipo di input quindi Federico questo ripeto non è un cross che io trado non è nelle mie principali però direi che questa è un po' l'analisi Angelo chiedeva euro franco invece e ti rimando all'analisi che ho fatto poco fa e che mi chiedeva Eugenio Alessandro dice come lo vedi il gold io sul gold sono ancora corto sono ancora corto e in questo caso direi che oggi ho fatto un certo tipo di operatività un po' avanzata con lo stop comunque ma non sto ad assillarvi l'ho spiegata bene nella trading room di stamattina con i platinum comunque ho deciso di rimanere a mercato lo stop ha una tolleranza molto ampia questo perché potrebbe avvenire un breve sfalso di questo massimo e quindi mi sono diciamo protetto con uno stop abbastanza ampio e la possibilità però di ritornare verso i 1.4 1.430 ho un target a 1.427 io credo ancora che nel breve eccolo qua il settimanale ci possa essere un ritorno verso area quest'area qui anche più basso in realtà e quindi diciamo che credo ancora in questa possibilità se dovessimo ritornare sopra i 1.5 in pianta stabile allora probabilmente potremmo ancora rivedere magari i massimi e poi magari fa farà quello che deve fare insomma però il fatto che va sopra i 1.5 è possibile che possa sparare anche più in alto quindi vedremo un po' il da farsi al momento nel breve credo in un ritracciamento più intenso del gold per la tipo di dinamica di price action che si è venuta a creare proprio su questo mercato bene allora poi vediamo Alessandro invece è long sul gold dal 19 di dicembre quindi da giovedì io ti dico in questo momento non lo vedo long quindi al momento sono short però ti sta dando ragione quindi rimani in posizioni segui il tuo piano e sicuramente ognuno deve seguire il suo perché io posso andare tranquillamente a stop daniel janotto daniel janotto dice ciao arduino potrebbe essere una pin bar per entrare long by stop 08459 se è stato precisissimo quella disegnata sul weekly della scorsa settimana dal dollaro franco grazie buone feste allora dollaro franco weekly settimanale sì diciamo che questa qui è una pin bar io sono già short euro dollaro quindi questa per chi non lo sapesse è una coppia correlata molto fortemente negativamente con l'euro dollaro e quindi puoi ben capire che non andrò a fare questa cosa però diciamo ci può stare alla rottura del 09850 di andare a a vedere una fase long ci può stare è molto possibile e l'idea secondo me meglio è quella di aspettare una fase long e magari una conferma sul daily come facciamo sempre anche in training room nostra cioè vedere magari che il prezzo di questo di questo asset vada sopra l'area 09850 e magari da qui andare poi aspettare un pullback magari sul daily ed avere un segnale di entrata sul daily secondo me è la cosa migliore da fare poi vedi tu insomma se entra le breakout direttamente sul weekly sai che però se entri sul weekly comunque è uno stop molto più ampio insomma ci sono delle dinamiche che comunque dobbiamo tenere in considerazione allora poi Norris chiede il bitcoin andiamo a vedere il bitcoin eh bitcoin che dire allora guarda sul grafico weekly noto una tenuta molto forte dei 7000 eh e i 7000 mamma mia assolutamente è un'area di tenuta forte quindi in linea di massima direi che seppur non saprei in questo caso non farei nulla perché abbiamo un weekly che fa questa tenuta forte ma il daily che è ancora fortemente short vedi che in questo andamento è short tra l'altro guarda è andato proprio sull'area di offerta bitcoin 7685 è tornato giù quindi in linea di massima io sinceramente qui preferirei avere un bel segnale che sia congruente tra weekly e daily e poi magari inizierei a rifare operatività perché qua mi chiama lo long magari fino anche un po' più in alto e poi nuovamente lo short il daily mi chiama solo lo short quindi c'è questa incongruenza diciamo tra i due time frame sinceramente magari una fase long la vedrei nel breve però attenzione perché l'andamento dell'ultime settimane addirittura degli ultimi mesi è completamente short sempre norris diceva volendo tenere per molto tempo il bitcoin cosa consiglieresti per non pagare commissioni allora norris intanto volevo dirti che se tu investi short sul bitcoin le commissioni i g almeno te le paga cioè hai un overnight positivo se vai short se tu invece vuoi investire long e vuoi tenerlo molto tempo come hai scritto tu ovviamente paghi commissioni a meno che non lavori con i cfd e quindi appunto con ig ma fai proprio un classico acquisto tramite un exchange di quello che è il bitcoin cash quindi lo compri con i soldi senza leva perché le commissioni sono che ti chiede i g come qualsiasi broker sono per la leva ovviamente leva più il tasso che porta ad avere appunto questo tipo di dinamica tant'è che se vai short tu vieni pagato per stare short di bitcoin non capisco però questa cosa volendo tenere per molto tempo il bitcoin secondo me è sbagliata il ragionamento cioè il fatto di tenere per forza tanto ma sulla base di cosa cioè io non sono molto pro questo tipo di ragionamenti poi posso sbagliare però anche sull'azionario lo dico su tutto io sono più dell'idea che da trader che siamo bravi siamo capaci a seguire il mercato con i suoi swing conviene capitalizzare i movimenti short e long e non essere mai come dire dipendenti da una posizione per lungo tempo perché sappiamo che in lungo tempo tutto può cambiare quindi il bello del trading è che si può ripeto essere compratori e venditori in un'ottica di tempo medio breve medio anche più un po' più lungo ma prendere proprio gli spike di mercato riuscire poi rientrare io non sono uno scalper io sono un trader che fa un trading di breve termine quindi sto dentro qualche giorno massimo qualche settimana credo che quello sia un pochino l'approccio non voglio dire migliore perché per carità ogni approccio ha le sue caratteristiche negative e positive però stare troppo a lungo termine credo che non sia non lo vedo una cosa che interessantissima però diciamo che il modo per farlo potrebbe essere quello di investire direttamente su un exchange comprando proprio fisicamente diciamo fisicamente anche se il bitcoin non è fisico bitcoin senza appunto senza leva senza niente e te lo tieni lì anni non so quanto possa essere interessante per carità poi il bitcoin va a 20.000 come già successo e però anche lì per esempio vedete quando io ve lo dico poi ne ho visti svariati che avevano il bitcoin magari da 1000 dollari quando è andato a 19-20.000 non hanno chiuso e adesso sono ancora dentro e quindi tutte queste oscillazioni perché non incassare e capitalizzare questi movimenti io sono più per questo tipo di cosa ovviamente noi lo dico per me almeno io capisco la price action di mercato ci ragiono la vedo la capisco e quindi so anche quando è meglio uscire quando il mercato mi fa dei segnali contrari quando è meglio stare quindi non so Norris io così però ovviamente la mia view e come la mia view può essere sicuramente non per forza quella di tutti però ecco questa potrebbe essere l'idea va bene perfetto allora siamo arrivati alla fine e beh per finire vedo che Alex Gine chiede petrolio anche se siamo un po' sforati visto che è Natale andiamo a vedere il petrolio allora il petrolio diciamo che è in una fase longa sicuramente sul giornaliero ma è in un'area di offerta petrolio area 60-50 61 è sicuramente un'area importante quindi attenzione massima qui io su questi livelli diciamo che scusate se avrò dei segnali di vendita li andrò a sicuramente utilizzare perché segnali di vendita in questo caso in quest'area sono sicuramente ben accetti al momento non ho in realtà segnali di vendita fate conto che i segnali di vendita possono arrivare anche più alti della zona rossa perché tutta l'area che arriva anche fino a 63 è sicuramente un'area molto molto interessante per delle vendite quindi io su queste zone cercherei di vendere non cercherei di comprare seppur il trend è long le aree da acquistare erano prima erano sotto in area 58 dove c'è stata quella mini pin bar ma adesso direi che queste zone sono sicuramente da va bene molto molto bene ragazzi allora allora veniamo a noi io spero che passerete un ottimo Natale con le vostre amici le vostre famiglie che passiate anche un buon fine anno vi faccio già gli auguri appunto di buone feste a tutti quanti vi vi ricordo che potete andare a approfondire ve lo dico ancora sul sito YAR Forex tutti gli approcci al trading di YAR Forex avete anche lo sconto di Natale noi ci vediamo qui con la trading room direttamente questa qua di IG ve lo dico già esattamente il 13 di gennaio lunedì ore 18.30 e basta mangiate moderatamente non abbuffatevi troppo mangiate bene bevete il giusto e ci vediamo direttamente dopo i primi dell'anno va bene vi ringrazio ancora per essere sempre presenti per il like che avete messo al video e ci vediamo presto un saluto a tutti